c'erano surfisti, non c'era un politico, neanche uno, c'era il capo della banca mondiale, questa cosa qui non vuol dire che politici, perché non c'erano? Io l'ho domandata questa cosa, perché non servono, hanno detto loro, nel senso che in questo ambito la politica non è importante, noi qui si decidono le cose, le cose si decidono non più a livello politico, ma la visione non è più politica, questo è drammatico, non sto dicendo, poi non è che farò un balletto su questo tavolo per festeggiare questa cosa, dirò che però la situazione è questa, nel senso che la politica amministra questa situazione, ma le scelte non le fa la politica, non le fa più la politica, una volta le faceva solo la politica, poi a un certo punto le ha fatte insieme e poi non le ha fatte più.